Agostino Vargas presenta Tradizione secolata Si pica mi intendo? 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 Si pica mi intendo Non mo'n'appartare ca' C'antica possessione Riste per te lo vedi Si pica mi intendo? Si pica mi intendo? Si pica mi intendo? La ragazza di te la Questa è la pietà Si pica mi intendo? Per me che è proprio Si pica mi intendo? Si pica mi intendo? Qui pica mi intendo? Si pica mi intendo? In Gesù Pudorese S'ultima lutei sadia l'ultima luce del giorno questa canzone parla del dramma dell'immigrazione di tutte e tutte le persone che perdono anche la vita con la speranza di trovare un'unica allora grazie, l'unica buona precisazione che ha fatto buonasera a tutti, sono da Martino Maldes Radio Santerra, le cento e tre se non lo so facciamo con la sua frequenza naturalmente, mi scuso si insegnava su un cruzzo, un cruzzo da Milocca Raffaele, noi a Pallocluso che sono solitamente presenti a ricerca Milocca pura a controllare la regia anzi, faccio partendo, si cerca di quello di un momento che ora imparai a manovrare la regia a Saran, sono i rappresentanti di notte e noi facciamo sempre il ciclato che imparai, ma in modo che ripessa da un tecnico con un Augusto come ti sentendo? che è capisciato se va a ritengo un grano che ti do l'auto l'ultima luce è saldia l'ultima luce del giorno l'ultima luce è saldia poi c'è tenuto un beniamino che viene a se visitare con la disarmonica naturalmente è usato lì il modo di presentare una trambona che è un'altra parte se non lo ha detto è un'altra parte è un'altra parte naturalmente il Teo se Maurizio Castardi è pronto senza chitarra Teo Lulasso ha costa l'ultima luce di saldia Verone Capisano Mario Castardi senza chitarra poi se non si intende naturalmente così è stata in persa di Capitanese buona scontra e buon divertimento grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon proseguimento di serata.